Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video, sono insieme anche benvenuti in questo prossimo video di oggi Andremo a guardare in questo video di SMG4 Stupido Mario World Iniziamo Oh si, non riesco a aspettare di andare al castello di Bowser Pet turtle Lolo ha ucciso un tizio Io, 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 guarda questo Porca, è quello un, è quello un castello gonfiabile? Puoi venire qua per utilizzarlo Ehi Mario Perché vieni a visitarmi? Perché non vieni quasi mai a visitarmi? Cosa? Sai che lo faccio? Quando sono troppo pigro per camminare Io ti vengo a vedere Nel frattempo Ho sentito che Che il Mario non buono sta arrivando a saltare sul mio castello gonfiabile Prima di tutto L'ho preso io Ed io e zio Mario Ci odiamo la vicenda Solo quando Quando Piccio si mette In mezzo Ok? Ma lui è sempre cattivo con me Yeah Non nominare quella volta Non è un mio problema Io risolverò Devo risolverlo da solo Mondo 1 La cosa degli Yoshi 3 Oh Così lento Vai più veloce Yoshi Voglio dire Yoshi Oh no Oh porca Guarda No È una piccola tartaruga Che non fa No No Veloce Oh Oh Transforma Z swoi Ci sia Yoshi U Raff Aiutami! Mondo 2 Casa infestata E va bene Sei sempre spaventato E per chi se lo chiedessi Chi sono sti cosi qua Sono sette Dirò i nomi Questo qua è Morton Prendateli De me Ma non fa paura Ah quindi vuoi vedere anche tu il video Mondo 3 Caverne Oh no! Il mio cavallo Il mio cavallo Devo salvarti La 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 Lemmy Non riuscirete mai a scappare No, non c'è il sogno Ehi, non ignoratemi Ah, ecco qua Ora di guardare degli anime Mario, ma Yoshi, mangialo Cosa? Cosa? Allora Cosa? No, non puoi aspettarmi che io mangia tu Mangialo Vediamo Mondo 4 Cielo Wow Mario può vedere tante persone da qua sopra Oh no Uccidetele Uccidetele tutti Loddlick Ah Usate i misti Ah, va la sci Le, 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 le Le difesi sono troppo forti Caricate Mondo 5 La foresta delle illusioni Uh, ma dove sia? Wow Luigi, come hai fatto ad andare là? Ah, diavolo Ti, ti salvo dopo Io, io faccio un pistolino Wow Un gigantesco Yoshi Rory Ma che Qual è uno Yoshi? Mondo 6 Sott'acqua Wendy Dica di Dica di Oltan Mondo stella Strada Come siamo arrivati Come siamo arrivati dall'acqua Ai livelli Ai livelli da spazio Non lo so Ma è un Non lo so Ma è un gioco di Mario Larry Ah ah Ora Io Io voglio Fare un duello Qualcosa O qualcosa Beh Io Bregati Io voglio andare Sul Castello gonfiabile Beh Mi Piacerebbe Fare No Allora Avevo Una Un minigame Un Una Gara Minigame Pianificata Ecco Ehi Aspettatemi Ehi Attacco Distrazione Ah Già Manca Yoshi Usa la roba La roba Della lingua Ok Ehi No You Don't No You Don't Yippie Here we go Oh 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 Non sapreremo mai a questa Questa caduta Visto che Mario ha un gran cervello Dovremmo atterrare su qualcosa di morbido Anni Aspetta Aspetta Ehi posso Posso venire? Hai giocato per 6 ore di fila Per 16 ore di fila Wow Ce l'abbiamo fatta Bowser Che cosa stai pensando? Giochiamo Mario e Bowser Giocarono sul loro cattolo gonfiabile Per 3 settimane Di fila E Dovettero andare all'ospedale Fine Vabbè comunque spero che vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao